Il 18 novembre 2018, giorno dell'ultima vittoria in campionato del Corato per 2-1 contro il Mesagne. Nell'anno nuovo torna a vincere la Rosa di Vito Castelletti, rivoluzionata dopo il mercato, capace di stendere per tre reti a uno l'Atletico Vieste, squadra in lotta play-off. I padroni di casa devono fare a meno di Zinetti, uscito malconcio nel match col Sansevero, e confermano il 4-3-3 con Morra, Sguira e Albanese in attacco. Il Vieste di Mister Bonetti, orfano di Bombershack, schiera un 4-4-2. Nel primo tempo parte meglio il Corato, al quinto sugli sviluppi di un corner, Monteduro svetta più in alto di tutti e da buona posizione spara altissimo. Ancora i padroni di casa in maglia gialla, protagonisti al dodicesimo con questo tentativo di colangione disinnescato da una difesa garganica in difficoltà. I ragazzi di Mister Castelletti vogliono il vantaggio che arriva poco prima della mezz'ora. Al ventottesimo, Sguira spizza un pallone all'indietro per Morra, che in caduta fa secco Tucci. E vantaggio locale per la gioia dei giocatori orfani dei propri tifosi a causa dell'inagibilità dell'impianto. Al trentaquattresimo, il tecnico Castelletti viene allontanato dalla panchina. Reo, secondo il direttore di gara, di aver rivolto qualche parola di troppo nei suoi confronti. Al quarantaseiesimo, in pieno recupero, ecco il Vieste rendersi pericoloso con Colella e Pipoli, ma l'azione non si concretizza. Si va così al riposo, sul punteggio di 1-0. Nella ripresa il Vieste non riesce ad imporsi e il Corato ne approfitta per chiudere i conti. All'undicesimo, Sguira riceve un cross, dalla sinistra stoppa a seguire e conclusione letale che buca la porta. E 2-0 per i padroni di casa, che finalmente intravedono il ritorno alla vittoria dopo troppo tempo. Il Vieste non riesce a reagire e al tredicesimo è ancora il Corato in avanti con Morra, conclusione però terminata al lato di non molto. Al ventiduesimo, punizione da fuori aria a favore dell'atletico. Dagli sviluppi, dalla battuta, Mosca è più lesto di tutti a trovare il pallone e rinsaccare la rete che accorcia le distanze. E 2-1 al comunale di Corato. Castelletti opta per l'uscita di Sguira e passa al 4-4-2, scelta che si rivela vincente. Al trentaduesimo, distrazione difensiva del Vieste, ne approfitta Ciriolo che salta Tucci e deposita in rete la palla del 3-1. Giochi che si chiudono. Al trentaduesimo, sono sempre i padroni di casa a rendersi pericolosi con Piarulli che entra in aria ma spare il pallone troppo alto. Il Corato amministra e argina gli avversari, triplice fischio e 3-1 il finale.